3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 14 15 15 16 18 19 19 19 19 20 22 22 23 23 24 25 25 25 25 25 25 26 25 25 Sì? Papà, ti ho trovato con solo i 10 interurbani. Ma come, il servizio è già attivo? Ci hanno messo solo 48 ore. Infostrada, la nuova compagnia telefonica degli italiani. Comoda la vita dei bambini? Mangiano e dormono. Comoda? Sul seggiolone Prima Pappa Peg Perego, però, dormono meglio. Perché è l'unico con pisolino compreso. Prima Pappa. E poi, Nanna. Shhh! Una bella differenza. Prima Pappa è solo Peg Perego. Asciugoni Regina. Non finiscono mai. Citrossolina. Per lo stomaco, quando serve, il giusto equilibrio. È un medicinale a leggere attentamente il foglio illustrativo. Se il sintomo persiste, consultare il medico. Planet TV Internet Navigator. Da oggi senza computer si naviga in TV. E allora, quanto mi piace viaggiare in Internet? Navigare. Si dice navigare. Planet TV Internet Navigator. Esposito, sempre meglio. Capità, non è merito mio. È Kimbo Gold Medal. E dove l'ha preso? Mia moglie. Kimbo. Il caffè di chi ama il caffè. Ti rinforzi ogni mattina. Se non lo fai, migliaia di aggressioni esterne debilitano ogni giorno il tuo organismo. Actimel di Danone contiene l'actobacillus casei, un fermento lattico che arriva alla flora batterica intestinale per aiutare a rinforzare e difendere il tuo organismo nella forma più naturale. Ogni giorno, Actimel di Danone. Il tuo rinforzo, la tua difesa. Nokia 5110 è il primo telefono cellulare che dà alla tua libertà nuove variopinte espressioni. Basta un clic per cambiare il colore del tuo telefono ogni volta che vuoi. Nokia 5110, con i suoi cover colorati, scatena la tua libertà di espressione. A Natale, regalatene di tutti i colori. Nokia. Connecting people. Magari non incontrerete mai Jimmy Bedford o Richard McGee o qualcun altro degli uomini che fanno Jack Daniels. Ma ogni volta che ne berrete un sorso, capirete perché sono così importanti. Jack Daniels, Tennessee Whiskey Se cerchi il tuo equilibrio, prova Orzoro Nestlé. È il modo più gustoso di bere naturale. Orzoro Nestlé, la scelta equilibrata. Sono volubili, incapaci di prendere decisioni. Alessandro Gasman, Gianmarco Tognazzi, Ela Weber Uomini senza donne Giovedì 3 dicembre, in prima visione TMC Ho indagato su certe voci che conferme...